Sono le 12.53 del 29 marzo 2008, questa è la centrale Pietro Vannucci di Gualdo Carbutaneo, in provincia di Perugia, centrale a carbone, impianto definito perfettamente integrato con il territorio. Da notare, oltre alla densa colonna di fumo che esce dalle ciminieri, come spesso accade, oggi sono quasi tre ore che sta durando questa situazione, da notare l'ininterrotto e intenso rumore di sottofondo che non si arresta mai, 24 ore su 24 per 365 giorni all'anno. Crediamo che i cittadini di Gualdo Carbutaneo abbiano diritto ad avere delle garanzie circa la non nocività di queste missioni che stiamo documentando. Esiste un principio di precauzione che è un principio giurisprudenziale di scaturigine comunitaria. Che cosa stanno facendo le istituzioni locali per farlo valere?